olè salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo piccolissimo unboxing della canon eos 600d che ho comprato principalmente per lavoro però ho deciso di farvi un piccolo unboxing e anche per dirvi che comunque la userò anche per il canale anche se non è il suo uso principale ovviamente vediamo quindi subito nella scatola un piccolo libretto pubblicitario e poi vari libretti di istruzioni nelle varie lingue abbastanza corposo quindi comunque avrò un po da leggere per capire bene come funziona questa reflex aprendo lo scomparto sottostante troviamo subito il suo cavo usb un cavo normalissimo per collegare la reflex al computer così potrò scaricare filmati e fotografie e poi invece troviamo il cavo per collegarlo alla televisione se magari vogliamo vedere i filmati direttamente dalla fotocamera e poi il suo caricabatterie a una batteria esterna il laccetto che viene principalmente usato per i fotografi per tenerlo al collo e poi appunto come dicevo prima la batteria esterna che poi andrò a inserire nella fotocamera tra l'altro io ho preso solo il corpo macchina non con l'obiettivo perché lo avevo già un 1855 di canon che è di solito quello che viene dato appunto con questa macchina ed eccolo qui il corpo della canon eos 600d vediamo un po nel dettaglio il fronte la ghiera superiore con tutte le sue funzioni e poi il retro con tutti i suoi comandi e lo schermo completamente orientabile molto molto utile anche per fare i video secondo me ed ecco qui anche l'obiettivo 1855 di canon non è sicuramente un ottimo obiettivo ma comunque vale la pena averlo e poi ho preso anche questo anello adattatore per gli obiettivi fd quelli vecchi analogici quindi io vi lascio a questa panoramica del tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi